Il penultimo allenamento settimanale per il Palermo al tenente onorato. In questo pomeriggio, dopo il test di ieri contro il Marsala e Rosanero, hanno svolto esercitazioni di carattere tecnico, partite a tema ed una partita finale in campo rilotto, della quale state vedendo le immagini. Acerraf Lazarsi è sottoposto alle cure dei fisioterapisti, terapia anche per Francesco Della Roca, che ha inoltre svolto lavoro in palestra, assenti giocatori impegnati con le rispettive nazionali. Simon Macchinoc in permesso societario perché domani convolerà a nozze con la compagna e i Rosanero sosterranno domattina l'ultima seduta settimanale a porte chiuse.